Raga, noi mangiamo sushi Con l'ai faccio Stiamo al ristorante Sani, vai? Sushi bar Allora, pranzo, io voglio ordinare No, che vuoi dire, stanno lei 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 non mi piace non mi piace non mi piace il pote di ala un papa va bene un bel come è parato come è parato non è parato così ecco un un po' di Così? Guarda, guarda, guarda. Ah, se vedi? Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda. No, così non tagatevi tutto. E' facile. Guarda, io non buono i piatti più, guarda. Arrugano, essas e lo intendi. Io vi ho una pezza. Vi salò frit swipe! Mmm, buonissimo! Guarda che è imparato. Ah, buon! Stai imparato, però... Se lo spetta! No, non si spetta, lo spetta! Ah, ma così... Stai piccolino! Sì, sì, va giù! Allora! Guarda! Ah, tu stai vedere il bambino! È buonissimo! Mmm! Mmm... Ma andiamo solo da lì! Oh! Vediamo dopo! Si hanno portato appena questo... Questo! questo ha detto tante cose e questo è poco vabbè vi dico dopo cosa mando ciao 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 portate le cose subito ci hanno portato appena questo fatto? ora mangiamo stiamo staggiamo per la prima volta cazzo con me lo scatto assaggiamo questo è l'olio aspetto a quello sport che vuole arrivare in soltre è il gol questo è il gol è stato buono è stato buono dobbiamo mangiare questo io prendo quella cosa il gelatino che cosa è? che è il gelatino è il gelatino il gelatino è il gelatino è il gelatino come è il gelatino è il gelatino che vuole arrivare al gelatino buono grazie è il gelatino è il gelatino Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.